Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo una ricetta antico-romana, una rostata guinni fowl cuocata con una tecnica molto interessante e cuocata con una salsa aromatica e deliciosa. Iniziamo con gli ingredienti. Necessitiamo un guinni fowl, garum, viaggio di vino, olio d'oliva, un po' di onè e un po' di staccio. Poi i dati, usiamo solo un po' di dati e i pinci. E poi le spezie, il pepe nero, il ciumino e la sede di coriandola. Un po' di pepe, troppo pepe, può facilmente overpowerire la salsa. E una safetida useremo solo un po' di questo ingrediente rinforzato. Prima parboiliamo il guinni fowl per solo 15 minuti. Questo passaggio aiuta a ottenere un rostato tender e buco, ridurando il tempo rostato e aggiungendo la salsa aromatica al pepe. E parboilandola così brevemente, solo 15 minuti, non ridurre il sapore del guinni fowl. Poi rimuoviamo il pepe da l'acqua e lo sprinkiamo con la safetida e il pepe nero. Usiamo solo un po' di safetida, ha un sapore forte e lo useremo di nuovo nella salsa. Ora mettiamo il guinni fowl nell'avno. Il tempo di cottura cambia, dipendendo dal vostro avno e dal peso del guinni fowl. Ma ricordate che il tempo è ridotto rispetto a un rostato usualmente, perché lo abbiamo prima incinato. Ora abbiamo abbastanza di tempo per preparare la salsa. Ricordiamo nel mortaio pepe nero, ciumino e coriandolo. Non ci sono quantità nella ricetta originale, come in molte ricette antiche, ma ricordate che la balanza e la moderazione sono la base della cucina romana. Questa ricetta è parte della collezione attribuata a Marcus Gavius Apicius, la più ampia di ricette antiche romani. Il guinni fowl fu più prezziato dagli romani, e questo piatto esegna davvero il sapore con la tecnica di cucina e un sapore ben equilibrato. Aggiungiamo di aggiungerlo con la ricetta di taro dal stesso libro, trovate il link alla fine di questo video. Aggiungiamo le ricette antiche romani. Potete aggiungerlo direttamente nel mortaio, ma preferiamo di mincerlo prima. Questo rende più facile da scendere. Aggiungiamo nel mortaio le ricette antiche romani e le ricette antiche romani. Aggiungiamo tutto insieme. Aggiungiamo un po' di asafetida. La strada era molto più grande usata dagli romani e greci. Era chiamata dal latino laser o con il nome greco di Silphium. La varietà più prezziata era coltivata nella Libia moderno e non è ancora produttata oggi, ma la varietà esterna, chiamata laser particum dai romani, è ancora più grande usata in molti paesi. Adesso aggiungiamo un po' di oliva, garum, vinaiglia e le ricette. Aggiungiamo bene e poi apriamo a fuoco. Quando la salsa inizia a cuocere, aggiungiamo l'acqua di oliva diluato con l'acqua e un po' di oliva. Il garum era una salsa di pezzi abbastanza usata nel Mediterraneo, fatta con sale e diverse specie di pezzi e, a volte, con spezie. Le scezze di pezzi nord-estasi sono fatte da stessa modo come alcuni tipi di garum, e puoi usare per sostituirlo. Aspetta che la salsa si tratta, è pronta. Ora dobbiamo aspettare per la salsa di cuocere. Aggiungiamo la salsa di guinni con la salsa di guinni. Questo piaceremo è un modo delizioso di reddiscogliere molti ingredienti interessanti e gusti con una storia lunga e fascinata storia culinaria. inizia a cuocere inizia a cuocere inizia a cuocere. inizia a cuocere inizia a cuocere inizia a cuocere inizia.